Piper. Se non fosse stato per i cavalli, sarebbe morta. Jason e Percy si lanciarono all'attacco l'uno contro l'altro, ma Tempesta e Blackjack opposero resistenza abbastanza a lungo, da consentire a Piper di togliersi di mezzo. Rotolò sul ciglio della strada e si voltò a guardare, in credula inorridita, i ragazzi che incrociavano le spade, l'oro contro il bronzo. Volarono scintille, le lame si confusero in un turbinio di colpi e parate, e il manto della strada tremò. Il primo scambio durò solo un secondo, ma Piper non riusciva a credere alla loro velocità di combattimento. I cavalli si allontanarono l'uno dall'altro, Tempesta attuonando in segno di protesta, Blackjack sbattendo le ali. «Fermi!» urlò Piper. Per un attimo, Jason prestò attenzione alla sua voce. I suoi occhi dorati si voltarono verso di lei e Percy attaccò, sbattendogli la lama sul petto. Grazie agli dei, però, ruotò la spada, forse di proposito, forse per sbaglio, e non lo colpì di punta ma di piatto, con una violenza tale da disarcionarlo. Blackjack si avviò al trotto, mentre Tempesta si impennava confuso e fuggiva per i campi di girasoli, dissipandosi in una nuvola di vapore. Percy faticò a far voltare il Pegaso. «Persi!» urlò Piper. «Jason è un amico! Getta la spada!» La mano con cui Percy impugnava la spada si abbassò. Forse Piper sarebbe riuscito a metterlo sotto controllo. Ma purtroppo Jason si rialzò e urlò a pieni polmoni. Una setta si incurvò nel cielo, rimbalzò sul Gladius e piombò su Percy, che cadde da cavallo. Blackjack nitrì e fuggì nei campi. Jason partì all'attacco di Percy, ancora a terra e con i vestiti fumanti per via del fulmine. Per un terribile momento, Piper non riuscì a trovare la voce. Gea sembrava sussurrarle. «Devi sceglierne uno. Perché non lasci che Jason lo uccida?» «No!» strillò. «Jason, fermati!» Il figlio di Giove si bloccò, con la spada a dieci centimetri dalla faccia di Percy. Poi si voltò. La luce dorata negli occhi scintillava incerta. «Non posso fermarmi. Deve morirne uno!» C'era qualcosa in quella voce. Non era Gea. Non era Jason. Chiunque fosse parlava inciampanto sulle parole, come se quella non fosse la sua lingua. «Chi sei?» domandò Piper. La bocca di Jason si piegò in un sorriso crudele. «Siamo gli Eidolon e torneremo in vita!» «Gli Eidolon?» La mente di Piper andava a mille. Aveva studiato ogni genere di mostro al campo mezzosangue, ma quel nome non le era familiare. «Siete... siete una specie di fantasmi?» «Lui deve morire!» Jason rivolse di nuovo la propria attenzione Percy, che però si era ripreso e con una mossa rapida della gamba spedì l'avversario a terra. Jason picchiò la testa sull'asfalto. Il tonfo che si sentì non prometteva niente di buono. Percy si alzò. «Basta!» strillò di nuovo Piper, ma non c'era nessuna forza ammaliatrice nella sua voce. Stava gridando per pura disperazione. Percy leva vortice sopra il petto di Jason. Piper avvertì il panico serrarle la gola. Avrebbe voluto attaccarlo con Catoptris, ma sapeva che sarebbe stato inutile. Qualunque cosa si fosse impossessata di Percy, aveva anche tutte le sue capacità. Per lei era impossibile batterlo in duello. Si costrinse a concentrarsi. Riversò tutta la propria rabbia nella voce. «Fermati, Eidolon!» Percy si bloccò. «Guardami!» ordinò Piper. Il figlio di Positone si voltò. Gli occhi erano dorati anziché verdi, il volto pallido e crudele. Non sembrava nemmeno lui. «Tu non hai scelto. Perciò sarà lui a morire!» «Sei uno spirito degli inferi e ti sei impossessato di Percy Jackson!» intui Piper. «E' così?» Percy fece un verso di scherno. «Tornerò a vivere in questo corpo. La madre Terra me l'ha promesso. Vado dove mi pare e piace. Controllo chi voglio.» Un'ondata di gelo travolse Piper. «Ecco che cos'è successo a Leo! Era posseduto da un Eidolon!» La creatura nel corpo di Percy rise senza allegria. «L'hai capito, finalmente! Ma è troppo tardi. Non puoi fidarti di nessuno!» Jason era ancora immobile. Piper non sapeva chi rivolgersi, non sapeva come proteggerlo. Alle spalle di Percy qualcosa si mosse nel frumento. Piper intravide la punta di un'ala nera e Percy cominciò a voltarsi. «Ignoralo!» strillò lei. «Guardami!» Percy obbidì. «Non puoi fermarmi! Ucciderò Jason Grace!» Alle sue spalle Blackjack emerse dal campo, muovendosi con una cautela sorprendente per un animale di quella mole. «Non lo ucciderai!» ordinò Piper. Ma non guardava Percy. Stava fissando il Pegaso negli occhi, riversando tutto il proprio potere in quelle parole e augurandosi che Blackjack le capisse. «Lo manderai al tappeto!» La lingua magliatrice però investì anche Percy, che tentennò indeciso. «Io lo... lo manderò al tappeto!» «Oh, scusa!» Piper sorrise. «Non stavo parlando con te!» Blackjack si impennò e calò uno zoccolo sulla testa di Percy, che si accasciò a terra accanto a Jason. «Oh, santi numi!» Piper corse dai ragazzi. «Blackjack, non l'avrai ucciso, vero?» Il Pegaso sbuffò. Piper non parlava il cavallese, ma pensò che probabilmente aveva risposto «Ma per favore, so misurare la mia forza!» Tempesta era sparito. Sembrava tornato nel luogo in cui dimorano gli spiriti della tempesta nelle giornate di sole, ovunque fosse. Piper controllò Jason. Il respiro era stabile, ma due botti in testa in due giorni non potevano certo fargli bene. Poi esaminò la nuca di Percy. Non c'era sangue, ma nel punto in cui il cavallo lo aveva colpito si stava formando un grosso bernoccolo. «Dobbiamo riportarli sulla nave», disse a Blackjack. Il Pegaso fece cenno di sicol muso e si inginocchiò per consentirle di caricare i ragazzi sulla groppa. Fu una faticaccia, ma alla fine Piper riuscì a sistemarli in modo soddisfacente, montò a cavallo a sua volta e partì al galoppo in direzione della nave. Gli altri furono un po' sorpresi quando la videro tornare con un Pegaso e due semidei svenuti. Mentre Frank e Hazel si occupavano di Blackjack, Anna Vettelio accompagnarono lei e i ragazzi in infermeria. «Di questo passo finiremo presto, Lambrosia», brontolò Hedge mentre medicava le ferite. «Come mai non vengo mai invitato a queste spedizioni violente?» Piper era seduta al fianco di Jason. Dopo un sorso di mettere un po' d'acqua, lei stava bene, ma era preoccupata per i ragazzi. «Leo, siamo pronti a partire?» «Sì, ma fai rotta per Atlanta, poi ti spiego». «Va bene», e corse via. Anna Vettelio stava esaminando l'impronta a forma di zoccolo di cavallo sulla nuca di Percy. «Cosa l'ha colpito?» «Blackjack», rispose Piper. «Cosa? Perché?» Piper cercò di spiegarle tutto, mentre Hedge applicava una crema medicamentosa sulla testa dei ragazzi. Non era mai rimasta molto colpita dalle capacità guaritrici del coach prima di allora, ma non doveva essere male. Oppure gli spiriti che possedevano i ragazzi li avevano resi molto più resistenti, perché entrambi, gemendo, riaprirono gli occhi. Nel giro di pochi minuti, Jason e Percy si erano drizzati a sedere e riuscivano a parlare formulando frasi complete. Entrambi avevano ricordi confusi di quanto era accaduto. Quando Piper descrisse il loro duello sull'autostrada, Jason trasalì. «Messo al tappeto due volte in due giorni», mormorò il figlio di Giove. «Alla faccia del semidio!» Lanciò un'occhiata imbarazzata a Percy. «Scusa, amico, non volevo fulminarti». La maglietta di Percy era cosparsa di forellini bruciacchiati. I suoi capelli erano perfino più spettinati del solito. Ma il figlio di Posidone riuscì lo stesso a rispondere con una debole risatina. «Non è la prima volta. Anche tua sorella mi ha folgorato una volta al campo. Sì, ma avrei potuto ucciderti». «Oppure avrei potuto ucciderti io», ribatte Percy. Jason si strinse nelle spalle. «Se ci fosse stato un oceano in Kansas, forse». «Non mi serve un oceano per...» «Ragazzi!» l'interruppe Annabeth. «Sono sicura che entrambi sareste stati bravissimi ad accopparvi a vicenda, ma in questo momento dovete riposare». «Prima mangiamo», replicò Percy. «E poi dobbiamo parlare, è importante». «Bacco ha detto che...» «Bacco?» Annabeth sollevò una mano per fermarlo. «Ok, va bene. Dobbiamo parlare. Immensa. Tra dieci minuti». «Avverto gli altri. E ti prego, Percy, cambiati». «Uzzi come se fossi finito sotto gli zoccoli di un cavallo elettrico!» Leo lasciò di nuovo il timone a Edge, facendo promettere al Satiro che non li avrebbe condotti alla prima base militare disponibile tanto per divertirsi. Si riunirono intorno alla tavola e Piper raccontò quanto era successo al cartello Topica 50. La conversazione con Bacco, la trappola di Gea, gli Eidolon, che avevano posseduto i due semidei. «Ma certo!» Hazel picchiò la mano sul tavolo, così forte che Frank si spaventò e lasciò cadere il burrito nel piatto. «Ecco cos'è successo a Leo!» «Quindi non è colpa mia». Il figlio di Festo tirò un sospiro di sollievo. «Non ho cominciato io la Terza Guerra Mondiale. Ero solo posseduto da uno spirito maligno!» «Che liberazione!» «Ma i Romani non lo sanno», osservò Annabeth. «E perché dovrebbero fidarsi della nostra parola?» «Potremmo contattare Reina», suggerì Jason. «Lei ci crederebbe». Il modo in cui aveva pronunciato il suo nome, come se fosse una fune di salvataggio verso il passato, procurò Piper un tuffo al cuore. Jason si voltò verso di lei con una luce speranzosa negli occhi. «Tu sapresti convincerla, Pipe. Ci riusciresti, ne sono sicuro!» Piper ebbe la sensazione che tutto il sangue che aveva in corpo le confluisse nei piedi. Annabeth le rivolse uno sguardo solidale, come a dire «I ragazzi sono degli idioti!» Perfino Hazel trasalì. «Ci potrei provare», disse la figlia di Afrodite con scarso entusiasmo. «Ma è di Ottaviano che dobbiamo preoccuparci. Nella lama del pugnale l'ho visto prendere il controllo della folla romana. Non sono sicura che Reina sia in grado di fermarlo». Il volto di Jason si rabbuiò. Hazel e Frank concordarono con un cenno. «Ha ragione», disse il figlio di Marte. «Oggi pomeriggio, mentre eravamo in perlustrazione, abbiamo di nuovo visto le aquile. Erano molto lontane, ma si avvicinavano in fretta. Ottaviano è sul sentiero di guerra!» Hazel fece una smorfia. «Questa è proprio il genere di opportunità che Ottaviano ha sempre desiderato. Cercherà di prendere il potere. Se Reina si oppone, lui dirà che parteggia per i greci. Quanto alle aquile, sembra quasi che riescano a fiutare le nostre tracce». «È così, infatti», confermò Jason. «Le aquile romane sono in grado di fiutare l'odore magico dei semidei perfino più dei mostri. La nave ci nasconde in qualche modo, ma non del tutto». Leo tamburellò le dita sul tavolo. «Fantastico! Avrei dovuto installare uno schermo di fumo che facesse puzzare la nave come una gigantesca pepita di pollo. Ricordatemelo la prossima volta». Eise la grottò alla fronte. «Che cos'è una pepita di pollo?» «Oh cavoli!» Leo scosse la testa stupito. «Giusto, ti sei persa... quanto? Gli ultimi settant'anni?» «Beh, mia giovane apprendista, una pepita di pollo lasciamo perdere», lo interruppe Annabeth. «Il punto è che sarà molto difficile spiegare la verità ai romani. Anche se ci credessero...» «Hai ragione». Jason si sporsi in avanti. «Dobbiamo andare avanti. Quando avremmo superato l'Atlantico saremo al sicuro. Almeno dalla legione». Sembrava così abbattuto che Piper non sapeva più se essere arrabbiata o dispiacersi per lui. «Come fai a esserne certo?» domandò. «Perché non dovrebbero seguirci?» Jason scosse la testa. «Hai sentito cosa ha detto Reina delle Antiche Terre? Sono troppo pericolose. I semi dei romani hanno il divieto di metterci piede da generazioni. Nemmeno Ottaviano potrebbe aggirare la regola». Frank inghiottì un boccone di burrito, come se fosse un pezzo di cartone. «Quindi se noi ci andiamo...» «Saremo dei fuori legge, oltre che dei traditori», confermò Jason. «Qualunque semidio romano avrà il diritto di ammazzarci a vista. Ma io non me ne preoccuperei. Se attraversiamo l'Atlantico smetteranno di seguirci. Ci daranno per morti nel Mediterraneo, il mare Nostrum». Pers indicò Jason con la fetta di pizza. «Tu, caro mio, sei un faro di ottimismo». «Il figlio di Giove non ribatté». Gli altri semidei fissavano tutti il proprio piatto, con l'unica eccezione di Percy, che continuò a ingozzarsi. Dove se lo mettesse poi tutto quel cibo, Piper non ne aveva idea. Quel ragazzo mangiava come un satiro. «Quindi facciamo bene i nostri piani e vediamo di non morire», suggerì Percy. «Il signor D, cioè Bacco...» «Cavoli, dovrò chiamarlo signor B adesso!» «Beh, ha parlato dei gemelli della profezia di El. Due giganti. Otto e... eh... uno che cominciava con la F...» «Ei fialte», disse Jason. «Giganti gemelli, come Piper ha visto nel pugnale». Annabeth fece scorrere il dito sul bordo del proprio bicchiere. «Mi ricordo una storia a proposito di due giganti gemelli. Cercarono di raggiungere l'Olimpo, ammucchiando una serie di montagne». Frank per poco non si strozzò. «Beh, fantastico. Giganti che usano le montagne come mattoncini. E voi dite che Bacco li ha uccisi con una pigna montata in cima a un bastone?» «Qualcosa del genere», confermò Percy. «Non credo che stavolta potremo contare sul suo aiuto. Voleva un tributo». E ha detto chiaro e tondo che è un tributo che noi non siamo in grado di pagare. Il silenzio calò intorno al tavolo. Piper riusciva a sentire Hedge sul ponte canticchiare una canzone marinaresca senza sapere le parole. Perciò ne usciva solo una roba tipo «Beh, beh, beh, la, 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 mh, mh, mh». La figlia di Afrodite non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che Bacco dovesse aiutarli. I giganti gemelli erano a Roma. Custodivano qualcosa di cui i semidei avevano bisogno. Qualcosa all'interno di quella giara di bronzo. Qualunque cosa fosse, aveva la sensazione che fosse la risposta che cercavano per chiudere le porte della morte. La chiave dell'eterna morte. Era sicura che non avrebbero mai potuto sconfiggere i giganti senza l'aiuto di Bacco e che, se non ci fossero riusciti entro cinque giorni, Roma sarebbe stata distrutta e il fratello di Hazel, Nico, sarebbe morto. D'altro canto, se la visione di Bacco che le offriva un calice d'argento era falsa, forse neppure le altre visioni dovevano avverarsi per forza, soprattutto quella di lei che annegava insieme a Persi e Jason. Forse aveva un significato simbolico. «Il sangue di una semidea e il sangue di un semidio», aveva detto Gea. «Piper, mia cara, scegli quale eroe morirà con te. Vuole due di noi?» Tutti si voltarono a guardarla. Piper odiava essere al centro dell'attenzione. Forse era strano per una figlia di Afrodite, ma aveva guardato suo padre, la stella del cinema, combattere per anni contro la fama. Ricordava quando Afrodite l'aveva riconosciuta al falò di fronte a tutto il campo, rifacendole magicamente il look in un istante. Era stato il momento più imbarazzante della propria vita. E anche lì, in compagnia di sei altri semidei, Piper si sentiva esposta. «Sono miei amici», si disse. «Va tutto bene». Ma aveva una strana sensazione, come se più di sei paia di occhi la stessero guardando. Oggi, sull'autostrada, Gea mi ha detto che aveva bisogno del sangue di due semidei. «Una femmina e un maschio», raccontò. «E mi ha chiesto di scegliere quale ragazzo dovesse morire». Jason le strinse forte una mano. «Ma nessuno di noi due è morto. Ci hai salvati». «Lo so, ma perché dovrebbe volere una cosa del genere?» Leo fischiò piano. «Ragazzi, vi ricordate alla casa del lupo? La nostra principessa del ghiaccio preferita, Chione?» Diceva che versare il sangue di Jason avrebbe infestato il posto per generazioni. Forse il sangue semidivino ha qualche potere. Persi mise giù la terza fetta di pizza, appoggiò la schiena alla sedia e cominciò a fissare nel vuoto, come se il calcio del cavallo l'avesse preso solo in quel momento. «Persi!» Annabeth lo afferrò per un braccio. «Oh, brutta storia», mormorò. «Brutta, brutta storia». Cercò lo sguardo di Hazel e Frank dall'altra parte del tavolo. «Ragazzi, vi ricordate Polibote?» «Il gigante che ha invaso il campo Giove?» Hazel annuì. «L'antinettuno che hai colpito con una statua di Terminus». «Sì, credo di ricordarmelo. Ho fatto un sogno mentre volavamo verso l'Alaska», continuò Persi. «Polibote stava parlando con le gorgoni e ha detto che voleva prendermi prigioniero, non uccidermi. Voglio vederlo incatenato ai miei piedi, per ucciderlo quando i tempi saranno maturi. Il suo sangue bagnerà le pietre del Monte Olimpo e desterà la madre terra». Piper si chiese se i comandi che controllavano la temperatura della stanza si fossero rotti, perché all'improvviso non riusciva a smettere di tremare. Era la stessa sensazione che aveva avuto sull'autostrada per Topica. «Pensi che i giganti userebbero il nostro sangue, il sangue di due di noi?» «Non lo so», rispose Persi. «Ma finché non lo capiamo, direi che è meglio non farsi catturare». Jason sbuffò. «Su questo concordo». «Ma come facciamo a capirlo?» chiese Hazel. «Il marchio di Atena, i gemelli, la profezia di Ella. Come si incastra tutto quanto insieme?» Annabeth premette le mani sul bordo del tavolo. «Piper, hai detto a Leo di fare rotta per Atlanta». «Sì, Bacco ci ha detto di cercare…» «Com'è che si chiama?» «Forco», rispose Persi. Annabeth sembrò sorpresa, come se non fosse abituata alla possibilità che il suo ragazzo avesse delle risposte. «Lo conosci?» Persi fece spallucce. Sul momento il nome non mi diceva nulla. Poi Bacco ha parlato di acqua salata e mi è tornato in mente. «Forco è un vecchio dio del mare, dei tempi che precedono l'epoca di mio padre. Non l'ho mai incontrato, ma pare che sia un figlio di Gea. Però ancora non capisco cosa ci faccia un dio del mare ad Atlanta». Leo fece un verso di scherno. «Beh, e allora che ci fa un dio del vino in Kansas? Gli dei sono strani. Comunque, dovremmo arrivare ad Atlanta entro domani a mezzogiorno. A meno che non ci si metta di mezzo qualcos'altro». «Non dirlo nemmeno», replicò Annabeth. «Si sta facendo tardi. Dovremmo dormire un poco, tutti quanti». «Aspettate», disse Piper. Ancora una volta, tutti si voltarono a guardarla. La figlia di Afrodite stava per scoraggiarsi e dubitare di nuovo di sé, ma si costrinse a parlare. «C'è un'ultima cosa. Gli Eidolon, gli spiriti che si sono impossessati dei ragazzi, sono ancora qui, in questa stanza».